Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 1 a 6. Il profeta non è disprezzato se non in casa sua e nella sua patria, dichiara Gesù a Nazaretta. Da quando abbiamo cominciato questo Vangelo di Marco abbiamo contemplato, abbiamo visto Gesù compiere dei miracoli, i prodigi, delle meraviglie e la gente rimane stupita dal suo inseramento, dai suoi prodigi, da quello che lui compie. Allora, lui torna a casa sua sperando di avere un'accoglienza, sperando di realizzare proprio più dei miracoli nei confronti degli altri paesi, delle altre città dove lui è passato. Purtroppo arriva lo scandalo, arriva il disprezzo. Gesù non è stato accolto perché, secondo la gente, lui è figlio del Falename, figlio di Maria. Allora non ha nulla da insegnare, non ha nulla da dire perché la gente lo conosceva. Che cosa potrebbe insegnare? Nonostante tutti questi prodigi, la gente è rimasta. Allora, addirittura si dice, ma sì, compio quello, ma niente di che, perché potrebbe essere una persona che ha avuto una grazia di Dio, potrebbe essere un profeta, però niente di che. Perché è stato uno scandalo, uno scandalo, per esempio, per il popolo, vedere Gesù è parlare così come uno scandalo, perché lui, essendo un essere umano, perché parla così come uno che ha una forza del Signore. Perché? Dunque, uno scandalo, uno scandalo. E Gesù si meraviglia della loro incredulità. Lui viene con la buona volontà di insegnare, guarire. Ma la sua presenza non è ben vista. Il suo insegnamento non è accolto. L'indurimento del cuore, l'incredulità ci sta nel cuore di questa gente. E perciò non ha potuto compiere dei prodigi, tranne imporre le mani ad alcuni malati, dice Marco, in questo brano. Ecco, carissimi, Marco, proponendoci questo brano, vorrebbe centralizzare tutto quanto sul tema dell'incredulità. I abitanti di Nazareth non hanno accolto Gesù e non hanno creduto in Gesù perché lo conoscevano. Quello succede spesso, questo succede spesso nella vita nostra. Quando siamo in difficoltà, quando abbiamo i problemi, spesso ci sono gli amici che ti vengono a trovare per parlarci, consigliarci o darci qualche indicazione. Ma noi che facciamo? Dispreziamo queste persone. Soprattutto quando conosciamo la loro vita, quando sappiamo chi sono e come vivono, che cosa fanno. Allora per noi non possono dirvi nulla e sarebbe come uno scandalo. Tu che sei cattivo così mi dici una cosa di genere, ma tu sei matto? Qualcuno direbbe così. Sì, ma non dimentichiamo che Dio usa chiunque per comunicarci la sua volontà. A noi ci è chiesto di non indurire il cuore, di non disprezzare le persone. Qualsiasi forma che abbiano, qualsiasi comportamento che abbiano, non abbiamo il permesso di disprezzare queste persone. Ma siamo invitati a credere in queste persone, a ascoltare quello che ti dicono. Perché può darsi che quella sua parola, quella loro parola, potrebbe essere un bene per noi. Non ci costerà nulla ad ascoltare. Se quello che si dirà ci aiuterà, abbiamo guadagnato qualcosa. Se non ci aiuterà, non abbiamo perso nulla. Ecco, cari sì, penso che impariamo a caricarci da questo senso di fiducia, da questo senso di ascolto, per poter realmente trovare anche una luce nei nostri problemi. Una luce per le nostre situazioni, per i nostri problemi, per le nostre difficoltà. La soluzione viene da Dio, ma Dio può usare chiunque per comunicarcela. Allora che lo Spirito veramente ti aiuti a camminare sotto la guida dello Spirito Santo. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre.